Cominciano a scaldarsi i motori a penne in vista della nuova tornata elettorale che a meno di ulteriori novità ci sarà nel prossimo autunno. Chi proverà a sedersi sullo scranno più alto di Palazzo di Città e Rifondazione Comunista che tramite il suo coordinatore comunale Gabriele Frisa è già al lavoro per formare una lista elettorale? Noi stiamo lavorando a fare una lista aperta che si contrapponga a chi ci ha governato negli ultimi 15-20 anni. Cioè hanno fatto disastri. Chiaramente per noi non è il problema del sindaco o di chi farà il sindaco. Il problema è di creare una squadra che si contrapponga a tutta questa gente che ci ha governato da 20 anni a questa parte. Per Frisa la gestione dell'ospedale San Massimo è l'abice di una politica errata nel corso degli ultimi 15-20 anni così come va risolta la crisi che attanaglia alla Brioni Roman Style. Questi lavori sono stati annunciati prima a maggio che doveva iniziare a novembre. Poi hanno detto che inizierà ad aprile. Nel frattempo ci hanno detto anche che mettevano nuovi medici, nuovi infermieri, riaprivano i reparti. Niente di tutto questo. L'unico investimento che abbiamo visto, se investimento si può chiamare, è questo container che costa 2.500 euro al mese di affitto di noleggio. Oggi siamo ridotti all'unicidio, quasi un ospedale da campo, per dare tutti questi soldi alle cliniche private. Penne abbiamo la crisi della Brioni, che nessuno si muove su questo. Abbiamo 21 parlamentari abruzzesi che stanno in Parlamento e nessuno, né sindaco di Penne, né regione Abruzzo, si preoccupano di dire, vediamo come salvare la Brioni da questa crisi, perché dopo il blocco di licenziamenti non sappiamo come andrà a finire. Noi pensiamo che bisogna quantomeno creare, non so, degli incubatori di impresa, oppure mettere in collegamento, in rete, tutte le eccellenze che abbiamo nell'area Vestina. Qui invece si ribalta, sempre sotto elezioni, di cosa si riparla? Della Maremonti, che sono 50 anni che parliamo della Maremonti e non si fa.